buongiorno buongiorno a tutti cari amici di spazio 50 e più lettori e in questo momento lettori fruitori di immagini da spazio 50 e più sono qua a comunicarvi offrirvi alcuni spunti di riflessione che ho elaborato pian piano in questi ultimi giorni nella in relazione a questa strana stranissima esperienza decisamente inaspettata generalmente nella nostra vita dei di adulti o di grandi adulti le esperienze sono il risultato di una progettazione di una scelta di una verifica di una aspettativa voluta da noi qui in questa circostanza questa esperienza ci è piombato addosso è l'avvenimento che ha scelto per noi ci ha trovato decisamente impreparati e quindi se si sono susseguite e continuano giornalmente a susseguirsi tematiche e argomenti emozioni la sorpresa lo stupore l'incredulità fino a generare la paura la paura per la condizione di salute sentiamo le comunicazioni che arrivano ogni giorno e dentro questo aspetto io non entro perché siamo tutti sufficientemente colpiti da tutti i numeri che ci vengono rivolti proiezioni gli esperti che ci accompagnano ad interpretare e per poter prevedere ma non è questo l'oggetto e il senso di trasferirvi i miei pensieri piccolo aiuto piccolo aiuto spero utile per cercare di passare meglio il tempo che inevitabilmente adesso si è fortemente dilatato un piccolo commento su questa espressione io passo il tempo io ricordo di quando ero di quando ero bambino che sentivo gli adulti grandi che si raccontavano come avevano passato il tempo poi siamo diventati grandi noi e è il tempo che ha passato noi il tempo che ha scandito il ritmo regolare dei nostri impegni dei nostri doveri delle nostre responsabilità mentre invece ora questa circostanza ci riporta ci ha scaramentati in un angolo a riflettere a come passare il tempo e qui la precisazione proprio linguistica è quella che io soggetto passo il tempo dove questo verbo passare diventa un verbo attivo transitivo governato da me a governare un oggetto che è il tempo ma chiarito questo facciamo fatto io un piccolo raccordo con la condizione quotidiana del prima coronavirus e dell'attuale in precedenza il quotidiano di ciascuno di noi era più o meno con le dovute ovviamente differenze scandito da da ritmi caratterizzati dall'uscita dalla progettazione del pranzo della cena e fine settimana il teatro la vacanza cioè tutta una serie di attività che comunque ci riuscivano a rendere sicuramente più piacevole il trascorrere del tempo con soprattutto con una grande caratteristica cioè quella della soggettività di ciascuno di noi ora qua il baricentro si è spostato siamo chiusi in casa e un piccolo sforzo immaginativo mi porta a dire che al di là degli ambienti diversi nei quali viviamo ciascuno di noi vive poi comunque la ritmica che si svolge lì dentro in queste case ci ha omologato a tutti perché c'è la lettura sbogliata di un libro c'è una televisione che cattura la nostra attenzione ci aiuta a far passare il tempo ma qui di nuovo il tempo che passa noi mentre invece ci dobbiamo fare provare a fare questo sforzo di riappropriarci del della azione attiva del tempo che ci passa intorno indubbiamente durante questi periodi l'osservazione su noi stessi sul nostro corpo sulle nostre funzioni diventa quella dominante ho dormito bene quanto ho dormito le mie funzioni vegetative sono regolari quanto sono regolari la pressione, il polso, la misurazione quindi della pressione, del polso per chi poi è accompagnato dall'assunzione quotidiana di farmaci indubbiamente tutto questo assume una valenza decisamente superiore, dilatata rispetto a quello che era fino a poco tempo fa quindi è la nostra condizione globale che è sicuramente mutata ma quello che sto dicendo qualcuno potrà dire è che scoperta certo non sto dicendo cose particolarmente originali ma sto puntando l'attenzione su questo perimetro, su questo confine per comunicarvi il fatto che la nostra capacità decisionale quella di una condizione di libertà cessata ci ha messo all'angolo come un pugile suonato ma ci dobbiamo scrollare di rosso e vediamo poi come perché poi l'obiettivo e il fine di questo mio contributo vuole essere e vorrebbe allardire di essere uno stimolo a vedere a suggerire delle modalità di fruire e a questo punto anche di godere la frequentazione quotidiana con affetti e con contatti attraverso web, attraverso il telefono, attraverso gli strumenti che la tecnologia ci ha messo a disposizione quindi il tema diviene un altro quello del riuscire ad immaginare, ad imparare a gestire un po' meglio il tempo che ci governa quotidianamente il tema, un argomento che domina la nostra condizione se riusciamo cioè a governare dei momenti, dei minuti, qualche ora poi inevitabilmente riaffiora come una marea montante questo è il grande pericolo affiora nuovamente l'ansia l'ansia, questa condizione della sfera emotiva nella quale possiamo cadere in vari momenti e per vari motivi che è la condizione di fastidiosa attesa per qualcosa che deve avvenire ma non so, non sappiamo che cos'è questo qualcosa che deve avvenire e quindi è la nebbia della incertezza che circoscrive questa emozione questo sentimento di ansia che ci depiazza, che ci rende instabili e che fa affiorare anche a livello fisico delle risposte di tipo vegetativo decisamente a volte sgradevoli bene, quindi ecco che andiamo a confluire verso la riprogettazione del nostro tema e alla ridefinizione di quello che era l'argomento di partenza il vivere questo tempo di questa giornata che sarà uguale a quella di domani e a quelle che verranno perché non dimentichiamo che se dei successi e delle comunicazioni positive verso una possibile soluzione di questa drammatica emergenza cominciano ad arrivare è pur vero che tutto dipende dalla capacità di tenuta psichica che riusciamo a mettere in campo cioè quella del distanziamento sociale ancora protratto bene, ma noi siamo sicuri che riusciremo sicuramente a fare questo peraltro senza vanificare gli sforzi che hanno portato all'ottenimento di questi risultati e la riprogettazione della giornata che si dibatte e costituisce un tentativo di dare una risposta a diverse domande quando finirà? quando tutto questo sarà un lontano ricordo? e allora recuperiamo lo spazio e l'equilibrio sull'oggi e quindi ecco un piccolo pensiero che ci può aiutare in termini estremamente pratici la domanda al mattino, al risveglio può essere ma oggi che faccio? come passo il tempo? ecco allora che io verso il termine di questo contributo, di questa riflessione di questa ghiacchierata voglio arrivare a immaginare una scena di questo tipo per esempio aprire un cassetto, uno scaffale, una scatola dove sono conservate le foto della nostra esistenza le foto sono il marcapasso di una serie di contributi, di esperienze, di vissuti e appartenendo un po' tutti all'area degli adulti se non dei grandi adulti possiamo certamente ricordare guardando quelle foto che si trattava spesso in bianco e nero spesso con quelle foto stampate su quella carta al perimetro frastagliata con la ridefinizione, la ricollocazione del tempo in cui sono state scattate erano i tempi in cui l'Italia usciva da periodi estremamente difficili del pieno dopoguerra e quindi l'animo dei nostri genitori o dei nostri grandi e quindi anche timidamente quello nostro era quello di sentire questi discorsi che andavano a proiettare le speranze, le fiducia, le illusioni il recupero tutto però comunque dominato dall'incertezza del successo cioè del buon risultato in questo senso la condizione psicologica delle emozioni non è totalmente dissimile da quella che stiamo attraversando oggi qui oggi c'è una valenza ulteriore che c'è la variabile cioè di un nemico invisibile che ci dobbiamo attrezzare a sconfiggere con l'aiuto della scienza perché altrimenti le nostre speranze potrebbero essere davvero vanificate in qualche modo ma il richiamo a questo ricordo delle vecchie foto è quello che mi ha portato a riflettere su un punto ma quei volti di quelle foto ma quanto erano felici quegli occhi sorridenti dei giovani e dei meno giovani pur in questo scenario in questo palcoscenico in questo sfondo di incertezza che era il quotidiano e in questo dico non dissimile da quello di oggi ma rivedere oggi quegli occhi e quei sorrisi aperti di visione prospettica futura a un matrimonio a un battesimo ad un compleanno ad una laurea ad un successo di qualcuno forse il ritorno a quella condizione in cui stavamo bene ed eravamo felici usiamola questa parola eravamo felici pur in quello scenario di incertezza dovremmo riuscire a trasferircela nuovamente nell'oggi nel quotidiano e le categorie delle emozioni di una volta di riportarle nell'attualità indubbiamente può essere un piccolo primo strumento da utilizzare probabilmente in una circostanza come quella attuale e nella fase di conclusione di questa mia chiacchierata il pensiero va al fatto alla sicura convinzione che ciascuno di voi ha fatto delle esperienze nel quotidiano in questi giorni più o meno simile a quelli degli altri e sarebbe interessante sarebbe bello trasferire condividere con gli altri le emozioni positive che queste rievocazioni o questi tentativi di tornare a stare bene hanno avuto successo su di noi quindi averle percepite averle vissute e mettere a disposizione degli altri può essere un'idea assolutamente interessante quindi se qualcuno di voi vorrà ed è interessato e vorrà condividere mettere a disposizione degli altri dei momenti di positività che è riuscito a raggiungere nel quotidiano può farlo utilizzando i mezzi che Spazio 50 metterà a disposizione con l'auspicio di aver contribuito in qualche modo a relativizzare la problematica dell'oggi cercando di inventare delle soluzioni vincenti vi saluto e vi ringrazio a di a 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 Grazie a tutti.